Ehi! Oh! Corri e salta dietro un pallone, figliere che non andrà. Oh! Ma che importa sia al sicuro, la sua mano di luce è come un muro. Noi verremo, vinceremo, e non ci lasceremo mai. Axel è un attaccante, è vero, il nado di fuoco è il suo tiro. Ed il nostro obiettivo è vincere il football frontier. Ognuno ha un colpo che imparato lui ha, da una squadra che nel cuore sembra brava. E chiede di lottare con la forza che hai, così la tua partita vedrai, che vincerai. Corri e salta dietro un pallone, immagico il tuo gioco rendere potrai. Corri e salta dietro un pallone, e corrono con lui i sogni che tu hai. Corri e salta dietro un pallone, finché il rete non andrà. Finché il rete, finché il rete non andrà.